Il giorno fa noi siamo un popolo d'amore, come diceva l'immenso Luciano De Crescente che è stato un grandissimo, è stato uno che rimane nella storia della cultura nostra per sempre la devono fare negli altri posti del mondo se proprio la vogliono fare, non devono coinvolgere noi fateci caso, succede che Trump, Presidente degli Stati Uniti, lancia missili alla Siria e aumenta il prezzo della benzina in Italia ma come è questo fatto? Chi non lancia i missili là e aumenta il prezzo della benzina qua? Trump lancia missili in Afghanistan e aumenta il prezzo della benzina in Italia cioè è possibile che questi missili l'arri lanci e lanci e non fanno un muro a me